dovete andare sulla sito link 3 volta aperto qui potete visualizzare i piani logicamente abbiamo la versione gratuita e dopodiché potete configurare scegliendo il piano gratuito vi si aprirà un'altra pagina e potete configurare il vostro nome il processo è molto veloce ed è gratuito quindi poi inserite la vostra email compilate i vari dati e dovete confermare l'indirizzo email e dopodiché vi loggate vi trovate nel pannello amministratore come questo qui quindi abbiamo saltato un passaggio perché io sono già loggato e qui ci sono le varie schede ed è possibile aggiungere un nuovo collegamento si apre la casellina vi permette di mettere qui il titolo e qui l'url e cliccando qui inserite una miniatura dell'immagine questo è il risultato ma io logicamente la pagina l'ho già creata e questo è il risultato finale linktree.ee slash georock santo è il nome che ho scelto ho caricato il logo mi ha fatto mettere questa headline imprenditore buddha business con mille mani e via dicendo e poi le varie pagine le varie mie pagine qui abbiamo il canale youtube il mio sito personale la pagina del libro il massimo esperto di marketing e il mio e-commerce cliccandoci su si apre immediatamente la pagina ad esempio questa qui è quella del libro tornando indietro cliccando su ad esempio il mio sito personale si apre subito il sito personale quindi è uno strumento di digital marketing molto utile è gratuito e se avete molte pagine utilizzato utilizzatelo con una logica appunto per indirizzare gli utenti a compiere le azioni che voi preferite se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile condividilo e soprattutto iscriviti al canale attiva la campanella perché come puoi vedere sto pubblicando molti più video e inserirò sempre più pillole di marketing all'interno del canale il canale è questo è Joe Rock Marketing e non perderti l'ultimo video che è stato caricato che sono i 5 consigli per distinguersi dalla massa e aumentare le vendite grazie a tutti grazie a tutti